Ciao amici di Suoni e Strumenti, un salutone da Cremona Pianoforte 2014. A completamento del tassello che mancava nello speciale dedicato alla serie Clavinova 500, siamo qui di fronte al CLP 565, è la meravigliosa declinazione in codino del modello Clavinova serie 500. Uno strumento straordinariamente elegante, ma non per questo altrettanto bello e affascinante dal punto di vista sonoro e tecnologico come gli altri. Esattamente troviamo delle caratteristiche di gran pregio come la tastiera GH3X, quindi con lo scappamento, e inoltre di coperta in avorio sintetico. In più la polifonia ha 256 note per poter suonare qualunque tipo di repertorio e tante altre caratteristiche interessanti, come per esempio molte voci, oltre a quella del pianoforte principale, e la possibilità di registrare e riprodurre anche l'audio attraverso l'interfaccia USB. fanno veramente di uno strumento da sogno, da poter collocare e quindi rendere elegante e bellissimo qualunque ambiente della vostra casa. Grazie a tutti! Bene, nella speranza che questo strumento possa trovare il vostro gradimento, vi do un grossissimo saluto da Cremona Pianoforte 2014. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!